Dal 23 al 25 giugno effettivamente stiamo organizzando come Camera di Commercio un evento abbastanza importante per la costa Terramana, si svolgerà a Giulianova e a Roseto e anche per mettere in evidenza i porti verrà la Marina Militare con due unità navali. E quindi questo perché volevamo mettere in evidenza il tessuto imprenditoriale che abbiamo, le nostre infrastrutture, quindi appunto i porti e ritenevamo che la Marina comunque era il brand più significativo da affiancare a noi per questa mission. È una bella manifestazione, sono tre giorni all'insegna dell'economia del mare, una manifestazione realizzata dalla Camera di Commercio e patrocinata dalla Marina Militare. In ambito portuale come comandante del porto e capo dell'ufficio circondare marittimo di Giulianova abbiamo già predisposto tutta una serie di servizi in sinergia anche con tutti gli altri enti che si occupano di sicurezza e di ordine pubblico. Ci aspettiamo molte persone per questa grande festa del mare, questa grande festa dell'economia del mare e soprattutto questa grande festa per tutto il territorio della provincia di Terra.